La colpa è dell'Europa, dice oggi la Banca d'Italia. Audizione in Parlamento per cui, ufficialissima, sarebbe stato meglio intervenire con il Fondo Interbancario di tutela dei depositi. Noi volevamo farlo, ma Bruxelles non ha voluto. L'accusa è adamantina, chiara, senza mezzi termini. Forse il punto più alto e critico nei confronti dell'Europa e i suoi dettati finanziari, bancari, economici. Lo scontro è tra poteri, cosiddetti forti, si vuota il sacco, ma l'Unione Europea risponde. Secondo un documento visionato da Lanza, dice che c'erano tre possibili strade per salvare le quattro sciagurate banche italiane. Una con fondi privati, una usando il Fondo di tutela dei depositi, che comunque avrebbe fatto scattare la risoluzione e le perdite per gli obbligazionisti subordinati. La terza, poi percorsa, usando il Fondo SalvaBanc. È pura tecnica. Ma Bruxelles, tra le righe, perfida, dice che l'uso di quel fondo, tanto celebrato come avrebbe voluto la stanza dei bottoni bancaria nazionale, avrebbe fatto scattare comunque le perdite per gli obbligazionisti, di cui ora si rivendica così tanto la difesa. Chi ha ragione? Difficile da dire, ora come ora. Tanto finirà anche in tribunale, si sa già. Toccherà capire se chi ha comprato l'ha fatto ingolosito da incompetente o da ingolosito furbo. Sarà il primo discrimine. Il secondo capire se chi ha venduto ha spiegato bene o male, spinto dai vertici a fare il lavoro sporco, perché gli urlavano piazza il bond e basta. Il governo si sta muovendo, il sottosegretario Zanetti, in gruppo variegato con 5 Stelle e Forza Italia, chiede una commissione d'inchiesta, ma la realtà è che ci risiamo, stavolta banche. Per di più popolari i rubinetti del credito sul territorio, le banche amiche e amiche degli amici, le banche dell'aiutino ai tempi della crisi, dominate dalla politica di provincia. E giù coi rendimenti facili. E ora la fretta per arrivare a una soluzione che faccia minor danno. Sì, ci risiamo. E comunque Parmalat falliva oggi esattamente 12 anni fa. Il problema è stabilire chi ha firmato, come e cosa. Oltre a quel 100.000 che compone la platea dei risparmiatori che hanno preso la fregatura, ci sono storie, ci sono persone non tutte uguali. Una cosa se ha comprato Zia Maria e la scomodiamo ancora. Una se lo ha fatto, chi sapeva, ci ha provato e ci è rimasto in mezzo, come tutti. Come anche il 70% dei dipendenti, rivela il sindacato Fabi, gente che vendeva lo sportello ma che ha anche comprato ragionevolmente con competenze superiori a quelle di Zia Maria. Questo documento è uno dei tanti che hanno portato al disastro e comincia nel solito astrattismo tecnico, lo strogoto finanziario, obbligazioni 2007, cassa di Ferrara, una delle quattro maledette come Marche, Chieti e Truria, prodottino a tasso variabile subordinato, l'over tier secondo, cioè secondo livello. Significa che nel peggiore dei casi, cioè questo, gli obbligazionisti sono rimborsati al secondo posto come creditori di serie B. Perché? Perché hanno preso rendimenti da serie A. Più rischio, più grana. Però più rischio, attenzione a questo, non al resto. Sfogliando al punto fattore di rischio emittente, si legge che nel peggiore dei casi, sempre questo, la banca può non pagare né interessi né capitale. Calma, è una formula standard usata anche dai big del settore. Ma come si fa a sapere se Ferrara era una big nel 2007 al collocamento? Il rating. Aveva un Moody's A3 alto, addirittura vari gradini sopra l'Italia. Poi, volendo ricordare, Parmalat anche aveva la AAA quando fallì e tanzi era vicepresidente degli industriali, ma è un'altra storia. Solo che è una storia che poco ha insegnato. Quanto rendeva il Parmatrucco? Il 6-7%. Quanto rendeva l'emissione di Ferrara? Fino al 6,5%. Non troppo per essere vero, ma troppo forse, per essere giusto.